ah raga buongiorno comunque sono uscito a cercare che cosa l'ultima volta che comunque ho scoperto quella volta l'avevo saltata questa parte o mi sono reso conto che dovevo farla sì nel senso che potevo farla e che non era troppo forte quella cosa lì in fondo e grazie comunque stamattina sono dovuto andare a scuola mia per il fatto che dovevo fare lo stage o quest'anno sono arrivato ed è finito è finito che non risulta nemmeno che faccio lo stage quindi comincia bene quest'anno scolastico perché ho fatto un pari scusate a comunque qui c'è sigvardo di catarina in provincia di catanzaro e si va bene va bene non mi interessa quello che vuoi quindi quanto tempo è che non gioco quanto tempo è che l'ultimo episodio qualche mese fa aveva nulla dove è andato e ingegner cane può venire qua grazie si si dico lei oh merda no no si si va bene va bene bell'urlo ragazzo e madonna aia ma non è mai sentito parlare di crema solare saccagnato bene bravo coglione ah non è morto peccato eh signor scuola ah e grazie per la raccoglienza eh grazie aspetti aspetti ciao anche lei lei è stato molto gattivo doveva metterci la crema solare così non si ma è mica colpa mia se non ha preso la crema solare oh oh mai parlare con un mustionato sono incazzosi no aia alla madonna ma che è sta cosa aspetta sta arrivando sigbardo non preoccuparti ci sono qui io e in realtà lui è mezzo immortale alla madonna adesso si che diventa l'ustionato ultra l'ustionato alfa ma non riuscirai mai a combattere me io la crema solare l'ho messa e tu no adesso adesso crepa eh si mancava un colpo mi faceva fuori che bella nicolatura di quando ti cade in faccia è molto utile grazie gira la ruota ah è compenetrato vedete che lì ci sono i già quelli dove dovevo la freccia dove ho l'arco se l'ho almeno ma ditemi ah ok eh no perché sennò mi arrabbiavo via che atteggio tutti in caso o potranno sempre tornare utili se ne so come gli svuoti e gli usi come sacco a pelo questo a a armatura del nord interessante questo aveva depreda cata dove dove è che assieme il fuoco lingua pallida randello grande randello per uccidere i nemici che rinconi ignoranza comunque l'abbinata bene sa matura a parte il mantello che si fa un po schifo come l'abbinata invece per effetti estetici non chiamate me chiamate tutti chiamate ma addirittura quelli di come ti vesti ma non chiamate me perché ho gusti di merda guardate come l'ho vestito questo qua poraccio poraccio ci manca solo che li metto all'armatura di smog che sembra un ciccione eh gabbie gabbie che si ravvivano e una si si non faccia finta di dormire madonna credibile come le promesse di renzi guarda finiti ah no si un brutto signore qua non brutti signore perché sono tanti però muoiono subito messi qua qua giardinaggio avanzato è un vega è un vegano che si è trasformato quello è diventato direttamente un albero o no 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 cane gattivo perché l'ho bevuto cazzo eh ho poca dimestichezza con i pulsanti adesso perché da un po che non ci gioco sono sono andavanti con fallout anche per me stesso ma so che no lo so che sei morto vabbè o ma è ma che brutta gente a quante bombe ho e nell'altro account ne avevo sieno quattro messe insieme to e anche anche tu sei vivo lo ti vedo se ti locco vuol dire che sei vivo anche tu è ma poi non è che vi c'è vi distinguete come se fosse una lampadina in una c'è la notte ti vedono tutti questa che è resina umana umana brutta gente chi è che fa la resina con gli umani le brutte persone poi a due due siccionazzi vieni qua don a me sembra di metallo vuoto dentro perché sentite che rumore che fa no vieni giù vieni giù vieni giù vieni giù vieni giù non costringe il mio fattino a fondo porca troia oh voleva eh però mi ha colpito oh il ritardo vabbè ok ma cerca di non far casino che qua dopo devo farci una festa oh e quanto tempo ci mette a morire ah ho preso anche una fiaschetta e tu cosa mi dici ah col libro mi ha preso ma no ok che col libro si impara ma non si impara a pestare coi libri sicuramente non usando un libro per stando e ma è no mi dispiace ma stavolta non mi faccio fregare eh che sto qua non mi troppa nulla capisci che mi gioca bastardo quando non ti troppano mai un cazzo ah tunica di mira tipito oro incenso e mira si so che mira è quello la del ah e tu tu volevi colpi eh ti colpi se no se il mio canca baia non morde ah giusto di qua non c'era un dato vi faccio vedere una cosa non questa ma una cosa più importante questa spalla è forte però eh anche se fa un po' schifetto dopo un po' che la usi ah vuole farsi uno stufato con me oh oh tacco in salto ah ai 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 mi stai facendo male malino ino ino ciarpame lo sapete che la vostra madre era un infame perchè se troppi il ciarpame vuol dire che sei la peggior feccia sulla faccia della terra qua dicevo vedete ah e c'è anche un falò qui se non sbaglio e un brutto signore che si nasconde dietro l'angolo questo non troppa nulla se non sbaglio oh ci sono già passato qua non me l'ho fatto ah non me l'ho fatto vedere qua vabbè qui c'era un falò saliamo di sopra per far fuori cattiva gente ah già quella non l'ho presa quindi sono passato giusto in tempo mannaia a te ahia mannaia a te anche a te eh qui c'era un piromante che si era abbastanza utile eh piromanzia anche se io sono un guerriero ma fa niente stavo dicendo dov'è l'arco dobbiamo rimetterlo che schifo dov'è 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 eccolo qua vedete ecco e lì c'è una lancia la partizan anche se il partizan sarebbe una squadra una squadra turca vediamo un po' com'è sei più fo' e partizan 24 oh non mi sembra poi dando forte ecco ora controlliamo che se che sia ancora vi morto eh vabbè peccato ah e qui compare e chi mica sei il padrone addirittura il padrone ah iuria di londro perché giulia di londro scusate giulia di londra adesso è tutto chiaro va bene un chino solenne grazie di prego ci sono il vostro signore ora in ginocchia ti fammi una pompa e cioè volevo dire il loda la luna oscura guardate come minchia siamo presi siamo degli zombie ora eh forse ci mettiamo un casco o roba simile perché fa scusa ma hai una spada non è che eh ti ho fatto alla partizan no magari ma non c'è normalissimo e vedete che quando hai nascosto il passaggio qua cioè e se uno non guarda la wiki non ci arriva comunque stavo dicendo dov'è 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 ecco qua mago merlino eh ti diverti con i metodi zombie a studiare ci vorrei prendere le tue stagionerie per poi ucciderti ah non gli ah si devo portare anche le pergamene ah bene neurobecco qual è il nome italianizzato Orlando una roba simile e qui c'è c'e 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 pillola blu guarda facciamo il set di matrix adesso pillola blu pillola rossa ma quanto bello 36 per poi ho tornato ho potenziato la spada di Нătric sbaglio pulsante almeno quel poco che ho potuto più tre Ma almeno fa più danni di questa qua adesso Meglio Perché è più bella Fa anche più critico Sì No prima che torni l'altro Neh ma dove era dietro di me Oh quanto ho rischiato Neh mi stava arrivando una macetata in faccia Sempre se si dice macetata Oh no 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 Ah ok Mi ha droppato roba Dimmi di no Ah ok bene Perché io lì non voglio scendere Aspettate aspettate Ora bisogna fare molto silenziosamente Che non ci cazzo Oh 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 E' una Una papera regolata male con l'audio Oh 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 Ah Perché ho preso danno scusate Ah Tutto sede dell'Aeraldo Morei Visione di grasso Ah maledetto bastardo Ma comunque io ho preso l'armatura di sti qua E non è che sono ciccioni È l'armatura che ti rende ciccioni Perché l'ho indossata e sembrava anche un ciccione quindi Ma il personaggio non è ciccione È l'armatura che rende così È l'armatura che ha il Come dire L'acciaio grosso La scusa che usano i ciccioni Tipo le ossa grosse E' gualla L'acciaio grosso Imposiamoci Spera non aver fatto un cazzo E ora via di qua Aspetta ma ho qualche miracolo curativo Che mi son potenziato un po' Eh Non ho neanche miracoli Non ho neanche incantemente Non ho un cazzo Bene E si va molto bene Aspetta Tu brilotto puttano Quanto poco li tolgo Questo qua mi sa che è un mini boss Un cavaliere caduto La lore su questi qui Non la so Non la so neanche Non la so neanche potuto Ma è perché da nessuno non è fa Tu signore Sei un bastardo Per signore intendo lui Non 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 Cosa volete intendere voi Aia Aia Mi sta facendo male Ma Grazie Dark Souls Puuu Sputo sul tuo cadavere Crolla Dai Antipatico Al cenere del paladino Dance Ho sbagliato gioco E quello Quello perché sta lì a fissarmi Si si Buongiollo Ah questo qua non è un cavaliere caduto E' un brigante Mi sembra Oh Un bello a fondo In Grazie per stare così esposto Aia 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 Ma Aia Detto al contrario Sembra il si dei Dei tedeschi Aia 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 Ma quanto d'ora Oh Dovevi muoire prima o poi Si si Cadi all'indietro Compenetrati con le scale Scudo del ragno Non mi piace Protegge bene dal veleno Ma non mi piace Qua non c'è decisamente nulla di interessante per me E per la mia attività Mi sento osservato Mi sento già qualcuno che mi punta con la balestra Non so perché Ah no c'è un cane Non so è troppo è troppo aperto sto spazio Mi sento Mi sento osservato C'è tutti sti alberi Mi distraggono Ma che cazzo Ah brutta Eccola là Infatti Infatti Cosa ho detto io Mi stavo appuntando Ma Ah Vorgo Vor Vorgorat 1994 Lo evocchiamo Ah Voglio farlo da solo questa Ma Scusate Resident Evil Sei tu Ahia Spostatevi Dicevo Se mi dessero un backstab No eh sì Se mi dessero soldi per ogni backstab che faccio Spero solo che non mi vomitino addosso Perché sono pericolosi Quando vomitano Ma glielo messa in culo Ho visto Aspadone di Astora Perché Astora c'è anche qua Sì Astora Provincia di Ancona Complimenti per la mira Ah sì ok E vedevo che non moriva All'effetto in ritardo È così lento È così lento di comprendonio Che muore anche dopo Nei per non parlare di qui Anche questo qua Signor Oh schifo Ma Cosa avete mangiato per Sì a parte che Vedere Ma si sono ispirati alla pasta che fanno in Giappone Perché vi giuro Non Mai vedere robe italiane in Giappone Mai 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 Ah uno schia Ah no Un Un Oh cazzo No 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 Non volevo Non volevo disturbarvi Tornate a pregare Vabbè io vi aspetto qua eh No veramente Oh Ma non possiamo brindare a tutto questo Ci sono cascato due volte Ma non ci cascherò la terza Cascato più di tutte Dai no Fuck 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 Sei anche un guerriero del sole Non ti vergogni Troia Dov'è il tuo onore Dov'è il tuo onore Preferisco suicidarmi Lo sai Riesco uccid Riesco ucciderlo Vabbè non avevo più stamina cazzo Cosa potevo farci Bastardo Vergognati Non sei degno di essere un guerriero del sole Divertiti Io no Gli invasori sono la piaga Di questo gioco Sono la piaga Ti invadono Quando hai zero estus Ma ti sembra leale Questa cosa Un secondo Voglio salutarevi così Ci vediamo al prossimo episodio Con doppio mano scudo Ah ho fatto un perry Aspettate Devo cercare di uccidere Prima di lasciarvi ucciderò qualcuno Con lo scudo Così per farvi vedere Che ce la faccio Puoi essere bravo Con tutte le armi Ma non potrei essere Proprio con lo scudo Ah no Ora ringraziatemi Mi ho fatto uccidere qualcuno Con lo scudo Ciao a tutti ragazzi Continuate a seguirci E divertitevi Con questi gameplay di merda Proprio uccidere la gente Con lo scudo Siamo nel degrado mondiale Vabbè basta polemiche Ci vediamo Ciao a tutti Continuate a seguirci Ciao a tutti Ciao a tutti